buongiorno amiche ma anche amici oggi sono qui non per interpretare un ruolo una parte non ce ne sarebbe bisogno sono qui per parlarvi con il cuore in mano e mi rivolgo principalmente alle mie amiche a me le mie compagne alle mie sorelle donne e non solo spesso nella vita attraversiamo momenti difficili in cui ci sembra tutto nero può capitare che la nostra storia d'amore giorno dopo giorno si trasformi in una voragine di oscurità in un abisso in cui i sorrisi gesti gentili lasciano sempre più spazio alle critiche parole sprezzante offese odio e a volte anche peggio è difficile capire quello che si sta vivendo dove inizia la violenza quando bisogna dire basta e denunciare che succede se si decide di denunciare dove andiamo non esistono risposte valide per tutti ma per trovarle l'unico modo che abbiamo è parlare raccontare ciò che si sta vivendo non imprigionarsi nel silenzio e forse anche chi opprime ha lo stesso bisogno di essere aiutato ma come te non riesce a capire quello che sta vivendo e non sa con chi parlare per questo sono nati i capo i centri antiviolenza punti di ascolto dove ci sono persone in grado di aiutarci sostenerci professionalmente che sanno ascoltare senza giudicare e possono guidarci nella comprensione dei segnali e dunque dobbiamo essere coraggiose non abbiate paura di aprire il vostro cuore di raccontare la vostra storia siate protagoniste della vostra vita perché solo così potremo abbattere il muro della violenza e costruire un futuro migliore per tutti noi io lotto è l'iniziativa promossa dall'assessorato alle pari opportunità del comune di napoli ed è finalizzata alla promozione dei centri antiviolenza nata con l'intenzione di sensibilizzare le donne vittime di maltrattamento a denunciare i loro oppressori i centri di ascolto possono darti un aiuto concreto anche soltanto con un consiglio fai sentire la tua voce facciamo sentire la nostra voce chiama il 1521 o scrivici in chat 1521 è qui per ascoltarci per sostenerci